A cinque anni dell'enciclica Caritas Inveritate di Benedetto XVI, Papa Francesco ne sottolinea le preziose indicazioni nell'udienza ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Un documento che ha messo in luce i vantaggi della globalizzazione, ma anche i divari che hanno portato a nuove povertà e diseguaglianze. Il Papa ricorda gli squilibri nei costi del lavoro con miliardi di persone che vivono con meno di due dollari al giorno, un meccanismo che non rispetta la dignità dei lavoratori e che distrugge fonti di lavoro. A rischio anche la democrazia inclusiva e partecipativa perché presuppone un'economia e un mercato equi. Le diseguaglianze si vincono con l'istruzione, l'assistenza sanitaria e il lavoro per tutti, elementi chiave per lo sviluppo e per la giustizia sociale. È necessario dunque tenere viva la preoccupazione per i poveri, pertanto il Papa invoca profonde riforme che prevedono la ridistribuzione della ricchezza e un mercato libero a servizio della famiglia. Un amore pieno di verità conclude la base su cui costruire la pace necessaria per il bene di tutti. Consente di superare fanatismi pericolosi, conflitti per il possesso delle risorse, migrazioni dalle dimensioni bibliche, le piaghe perduranti della fame e della povertà, la tratta di persone, ingiustizie e disparità sociali ed economiche, squilibri nell'accesso dei beni collettivi. Consente di superare fanatismi per i povertà, la tratta di superare fanatismi per i povertà,